padre non ci abbandonare nella tentazione questa invocazione carissimi la sentiamo particolarmente vera nel silenzio del sabato santo quando tutto tace e sembra che tutto sia perduto è la tentazione dello scoraggiamento della rinuncia del lascial perdere del non ne valeva la pena e la tentazione di quanto ti senti solo non capito e ti pare che tutti ti abbiano abbandonato gesù ha reagito con quel grido al padre dio mio perché mi hai abbandonato grido che è una preghiera e che sta insieme con l'andare avanti di gesù fino a donare tutto nonostante tutto è la tentazione di pensare che il signore ce l'abbia con me perché troppe cose non vanno come vorrei è la tentazione che ci sale quando vediamo tanti motivi di paura è la tentazione quotidiana di semplicemente tirare avanti senza speranza occorre un po di silenzio di ascolto della parola di dio occorre un dialogo con una persona seria davvero spirituale la madonna che nel sabato santo continua a credere alla parola del signore nonostante tutto e a dire il suo sì è un esempio bellissimo la tentazione è una prova anche gesù l'ha vissuta subito dopo il battesimo nella passione in tutta la sua vita pubblica come conosciamo dai vangeli radice della prova sta nel modo in cui il regno di dio si fa presente nella storia la prova accompagna sempre il regno di dio scaturisce dal suo essere un piccolo seme mentre ci attenderemmo che apparisse come un grande albero prova non è solo la tentazione dell'uomo in generale che si dibatte nelle difficoltà della vita prova è la tentazione del discepolo che ha fatto del regno di dio il suo principale desiderio il padre non ci elimina la prova perché possiamo comprendere sempre più profondamente la bellezza del crocifisso di quell'amore che salva donando tutto e noi sappiamo di poter dire e ripetere con piena fiducia di figli padre non ci abbandonare nella tentazione buona pasqua